La via ferrata di Giovanni Pascoli, la novella nedda di Giovanni Verga, il cambiamento climatico con Giorgio Parisi, un brano dal libro di Liana Segre e Gerardo Colombo, ma anche il Covid, la musica, i rischi della rete e i social network. Alle 8.30, 13.700 marchigiani, di cui più di 3.000 della provincia pesarese, sono tornati sui banchi di scuola per affrontare la prima prova dell'esame di maturità. Quest'anno, infatti, per i ragazzi nessuno sconto. Dopo un biennio in versione light sono state confermate due prove scritte e una orale. Oggi i candidati hanno avuto sei ore per sviluppare una delle sette tracce predisposte dal Ministero dell'Istruzione e suddivise nelle tre diverse tipologie, analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo e riflessione critica di carattere espositivo su tematiche di attualità. Sono iniziati questa mattina gli esami di maturità per i ragazzi di quinta. Ci troviamo al campus di Fano, alle mie spalle, al liceo Nolfi Apolloni, in cui i ragazzi hanno sostenuto la prima prova scritta di italiano. Andiamo a sentire le loro impressioni. Quale traccia hai scelto? Allora, io ho scelto la B2 che parlava dell'importanza della musica, che tanto è un tema che hanno i giovani, interessa parecchio e devo dire che non me le aspettavo così, cioè penso che ci siano venuti incontro. Comunque sono temi che erano trattabili. Io sono molto contenta almeno. Quindi sono temi adatti a voi giovani che vi sono piaciuti soprattutto? Personalmente sì, anche gli altri, comunque avendoli letti. Spero per tutti. E questi giorni invece è soltanto studio o anche un po' di svago? Mare, assolutamente mare. Studio al mare sotto l'ombrellone. Io ho scelto la traccia sulla pandemia e speriamo sia andata bene, dai. Vediamo. Quindi è un tema di attualità? Sì, esatto. La traccia C. Sì. E sei pronto per la prova di domani? Speriamo, dai. Ho studiato matematica tutto l'anno, quindi ci si prova. Dopo fino alla fine non si sa niente, diciamo, dai. Io ho scelto la traccia B2 che era sulla musica, un testo argomentativo, e puntavo tutto su questo perché matematica è molto più difficile, quindi penso sia andata bene. Anche io ho fatto la stessa traccia sua. Siete pronti per la prova di domani? Sì. Assolutamente no. Allo scientifico penso che matematica sia la materia più difficile e portarsela anche all'esame penso che sarà ancora molto più difficile, quindi provremo fare il possibile e poi dopo si vedrà. Si vedrà agli orali. Speriamo bene, è stata tosta, però sono abbastanza tranquillo, sì. Quale traccia hai scelto? Ho scelto la traccia B, dove c'erano delle domande dove rispondere e poi argomentare il tutto, quindi il mio era su Liliana Segre, quindi sono abbastanza tranquillo, ecco. Ti sono piaciute le tracce in generale? No, tranne la mia non le ho trovate molto, diciamo così, nei miei gusti, ecco. Che materia vi è capitata all'esame di domani? Scienze umane, che è la materia di indirizzo. Sei pronto? Speriamo, un po' di ansia. Le tracce erano abbastanza semplici, si scriveva bene, non c'erano particolari problemi. Quale traccia hai scelto? La C2, quella di attualità. Parlava dei social network, delle varie connessioni, anche dei vari problemi che possono causare. Quindi delle tracce comunque per voi ragazzi? Sì, sì, erano tracce abbastanza attuali che riguardavano anche noi giovani, quindi sì, tutto bene. Per la prova di domani sei pronto? Diciamo di sì, anche se sono un po' incerto, perché appunto con la prova di scienza umane non sappiamo bene cosa aspettarci, quindi è un po' così. Invece questi giorni anche un po' di mare o solo studio? No, questi giorni solo studio. E la prima prova è andata. Quale tracce hai scelto? Ho scelto la A2, c'era un testo di verga su NEDDA e ci ho provato. Pensi sia andata bene? Ho scritto abbastanza, quindi sono tranquilla, sì. Sei pronta per l'esame di domani? No, no, non è vero. Anche per domani sono abbastanza tranquilla, mi preoccupo più l'orale. Ok, quando avrai l'orale? Il 29. Ho scelto il tema attuale, la tipologia C2. Come pensi sia andata? Oh bene. Trattava di come la tecnologia abbia cambiato un po' le nostre vite, i nostri modi di fare e era incentrato sulla comunicazione di massa e tutto il resto. È stata più l'attenzione che ha dato un po' di difficoltà, ma alla fine non era niente di così complesso. Mi aspettavo una cosa più difficile. Di che indirizzo sei e quale materia avrai alla seconda prova di domani? Io sono del Seneca, quindi grafico e comunicazione.